Io ho Paolo 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 Ma non posso portare un bambino? Tutte le pambino! Tutte le pambino? E non solo pambino, ma il pambino! Ma qu'è la qu'è la razione? Ma che è il bambino? Ma il mio confine! Quanto è? La mia figlia! Questo è il mio ultimo il chance! Tessere di fare! 5 minuti, vari nocchia, solo 5 minuti Sì, vabbè, vabbè, vabbè. Sì, vabbè, vabbè, vabbè. Sì, vabbè, vabbè. Sì, vabbè, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè.